Filipe, da me questa pensione non mi basta più. Adesso vuoi sentire i consigli di Aibet. Oh no, oh no, oh no, ma che stai a fare? Sto a guardare Aibet. Ma come Aibet? Me l'hai detto tu che lo devo guardare. Oh no, ma fa il serio, fa il serio. Ragazzi, ve lo lascio qua, Aibin. Se volete, andate a sentire perché è molto, molto preparato.